Sfiducia Crocetta martedì la mozione sarà discussa in aula. Fincantieri la CISL chiede l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico. Palermo dopo i violenti nubi fragili l'amministrazione Orlando ha varato un nuovo piano per le emergenze. Ben trovati a questa seconda edizione di Media News oggi mercoledì 23 ottobre. Sfiducia a Crocetta. L'atto sarà discusso martedì prossimo all'Ars dall'Aula di Sala d'Ercole. Il documento è stato firmato dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle dal deputato regionale del PDL Marco Falcone e dai deputati regionali aderenti alla lista Musumeci. Sarà discussa martedì la mozione di sfiducia presentata contro Crocetta da Movimento 5 Stelle Lista Musumeci e dal deputato regionale del PDL Marco Falcone all'Ars. La data è stata scelta durante la riunione dei capigruppo che era iniziata questa mattina e che si è protratta fino al pomeriggio. Dunque quella che era la calendarizzazione di un atto annunciato ha assunto i canoni dell'ufficialità. Martedì l'Ars dovrà decidere se sfiduciare o meno Crocetta con il rischio che la Sicilia in caso d'approvazione del documento rimanga senza presidente. Saltata la riunione di Sala d'Ercole prevista per venerdì in cui Crocetta avrebbe dovuto riferire in aula sull'attuale situazione politica siciliana. Le recenti diatribe circa la doppia militanza PD megafono del governatore infatti erano state ricomposte con l'adesione di Crocetta al gruppo parlamentare dei democratici. Peraltro la mozione di sfiducia che si discuterà in aula martedì rende superfluo ogni riferimento alle opposizioni che hanno firmato l'atto di sfiducia. Troviamo veramente inaudito che ci sia una partecipata che non risponda agli atti di indirizzo della regione lo dice in una nota da Bruxelles dove si trova per partecipare al vertice europeo sull'immigrazione il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Di fronte ai problemi di gestione della spesa sollevati davanti alla Commissione europea continua il governatore che potrebbero portare a centinaia di milioni di danni nei confronti del bilancio della regione. Non solo non si rispetta la volontà del socio di maggioranza ma troviamo persino assurdo che i soggetti a suo tempo nominati dalla precedente presidenza non abbiano ritenuto necessario rimettere il proprio mandato all'ente che evidentemente non rappresentano più. La regione ha il diritto e il dovere di difendere gli interessi pubblici rispetto al socio privato e fare chiarezza. Cambiamo argomento. Fincantieri, la CISL chiede l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico. Il sindacato attacca la regione. È stato perso troppo tempo. La CISL invoca l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico per salvare Fincantieri e lo fa criticando l'atteggiamento della regione siciliana, Rea secondo il sindacato, di prendere tempo e non attuare misure concrete per la tutela dei lavoratori. Esprimiamo fortissime preoccupazioni sulla vertenza Fincantieri-Palermo per via dell'atteggiamento assunto dalla regione siciliana, si legge nella nota, che non si è ancora attivata per ottenere la convocazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico del tavolo sul futuro dello stabilimento. Ad affermarlo sono Salvatore Picciurro, segretario Fincisl Sicilia, e Ludovico Guercio, segretario Fincisl Palermo-Trapani, intervenendo sulla vertenza della Fincantieri per l'appunto. Questo atteggiamento, spiegano, mette a rischio l'esistenza stessa del sito. È stato perso già fin troppo tempo sul finanziamento per la ristrutturazione dei due bacini galleggianti di cui è proprietaria la regione senza di essi. Infatti il cantiere non ha futuro ed è destinato a chiudere i battenti. Picciurro e Guercio aggiungono, il governatore Crocetta deve sapere che il futuro del cantiere di Palermo è prima di tutto nelle sue mani e poi in quelle di Fincantieri. Non possiamo concedere alibi a nessuno, non possiamo giocare con il futuro dell'ultimo baluardo industriale rimasto a Palermo. Si convochi immediatamente la riunione presso il Ministero a Roma dove, sia chiaro, il governo regionale dovrà parlare di fatti concreti e non più di favole. Non abbiamo più ricevuto notizie dopo la riunione in prefettura del mese scorso in cui, alla presenza di tutti i soggetti interessati alla vertenza compresa la regione, erano stati assunti precisi impegni alla luce anche della nuova missione sull'offshore assegnata a Palermo e quindi sul finanziamento regionale da destinare alla costruzione di un nuovo bacino galleggiante da 100.000 tonnellate per poter ospitare anche le piattaforme petrolifere. L'impegno preso da tutti, ma principalmente dall'assessore regionale alle attività produttive vancheri, ricordano ancora dalla FIM, era quello di convocare nella prima decada di ottobre presso il Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo sul futuro dell'azienda. Finalmente la proroga della Cassa Integrazione Inderoga dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno per i lavoratori Fiat e Magneti Marelli è una realtà. Dopo il via libera del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Siciliana di due settimane fa, questa mattina a Palermo abbiamo siglato l'accordo tra le parti. Nella sede dell'ufficio provinciale del lavoro ad annunciarlo sono Giovanni Scavuzzo e Armando Zanotti della CISL e della FIM CISL di Palermo e Trapani. Cambiamo argomento. Si aprirà un nuovo processo civile per accertare le eventuali responsabilità dei Ministeri della Difesa dei Trasporti sul depistaggio dell'indagine del disastro aereo del DC-9 dell'Itavia precipitato con 81 passeggeri a bordo il 27 giugno del 1980 a largo di Ustica e che causò il fallimento della compagnia. Il depistaggio delle indagini sul disastro aereo di Ustica deve definitivamente considerarsi accertato e per gli 81 passeggeri in viaggio da Bologna a Palermo a bordo del DC-9 dell'Itavia il 27 giugno del 1980 la morte fu causata da un missile lanciato da un aereo ignoto. Sono questi i fatti riconosciuti dalla Cassazione che permettono di riaprire un nuovo processo civile che valuti le responsabilità dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti nel fallimento dell'Itavia proprietaria dell'aereo precipitato a largo di Ustica. Il 4 ottobre del 2010 la Corte di Appello di Roma aveva bocciato la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da Luisa e Tiziana Davanzali figlie di Aldo Davanzali patron della compagnia aerea fallita sei mesi dopo il disastro. Per i giudici della Corte di Cassazione menzogne e omertà da parte di uomini dello Stato hanno portato alla bancarotta la compagnia aerea Italia. A distanza di 33 anni si può aggiungere così un altro tassello di verità accertato dalla giurisprudenza che possa valutare l'effetto dei depistaggi nel crack dell'Itavia poiché essi gettarono discredito commerciale sulla compagnia che venne anche colpita da provvedimenti cautelari sollecitati dalla diffusione della falsa notizia del cedimento strutturale del 19. Palermo deve sicuramente destreggiarsi tra problemi storici come il bilancio e le scuole e le imminenti bombe sociali che potrebbero innescarsi dalle vertenze GESIP e dagli scandali AMAT ma il vero problema della città è la RAP ad affermarlo e il consigliere comunale di Palermo appunto Giulio Cusumano. Il problema reale in questo momento è la RAP. La RAP perché ci aspettavamo tutti che oltre al cambio di nome ci fosse anche un cambio nella sostanza della società che si deve occupare della raccolta rifiuti. Questo ancora adesso non c'è stato. Personalmente ho chiesto con un ordine del giorno legato alla deliberatares che abbiamo approvato un mese fa il piano della raccolta e questo ancora non c'è stato dato. Mi pare incredibile che una città come Palermo che ha il maggior numero in assoluto in proporzione rispetto alle altre città d'Italia di dipendenti pubblici che si occupano di raccolta del differenziato e l'indifferenziato non abbia un piano raccolta. È incredibile a mio avviso come capita in tante altre città d'Italia che il cittadino Mario Rossi che abita in Viale Campania o in Viale Garibaldi non sappia chi è il punto di riferimento quindi lo spazzino che deve pulire quella determinata via in quali giorni della settimana. Fino a quando non avremo questo punto di riferimento fondamentale non potremo attribuire le responsabilità. Dirne una per tutte abbiamo 400 spazzini in questa città che si devono dividere tutte le vie di Palermo e ogni giorno tra malattia, ferie e 104 abbiamo circa 70 dipendenti che non vanno a lavorare tutti i giorni. I lavori già effettuati ma anche tutto quello che il Consiglio Comunale di Palermo deve ancora affrontare entro il 2013 per uscire dal affanno ereditato dalla scorsa amministrazione. Abbiamo fatto il punto della situazione con il Vice Presidente del Commissione per le Aziende Speciali ed ex municipalizzate al Comune di Palermo, Andrea Mineo. Nelle ultime settimane abbiamo affrontato il pieno triennale delle opere pubbliche che è stata un'opera importante e speriamo che non si traduca in un libro dei sogni perché moltissime delle opere hanno ancora bisogno della fonte di finanziamento. Io mi sono fatto portatore di un emendamento importante infatti condiviso da tutte le parti delle politiche presenti all'interno del Consiglio Comunale che riguardava le scuole. 14 scuole sono state reinserite nella programmazione del 2014 perché pensiamo che le scuole ed è un ragionamento condiviso anche con l'amministrazione che aveva avuto purtroppo una svista ed è stata rimediata da noi, debbano diventare dei centri di quartiere dove accogliere le famiglie anche dopo gli orari scolastici perché sono gli edifici più presenti sul territorio. Abbiamo poi fatto il bilancio e la Tares, il regolamento Tares. Purtroppo abbiamo ravvisato che nonostante l'innalzamento al massimo delle tariffe Tares. Gli introiti non saranno sufficienti a coprire il costo di gestione della RAP. Sarà soltanto utile per l'ordinario. Quindi speriamo che in sessione di assestamento del bilancio si possano fare delle ulteriori posti in bilancio per gli investimenti sulla RAP altrimenti sarebbe sempre la stessa storia. Andremo sempre a perdere. Fra le prossime cose abbiamo il piano urbano del traffico, il piano generale urbano del traffico che è molto importante, ma mi auguro che con il piano generale urbano del traffico non si facciano provvedimenti afflittivi dell'economia cittadina. Così come ad esempio ho già visto sui gazebbi e sui chioschi. Le posso da oggi dire che la bozza che ho letto del piano urbano del traffico è sicuramente perfettibile perché oggi è anacronistica, non è più al passo con i tempi. Dopo i violenti nubi fragi che hanno mandato in tilt la città, l'amministrazione comunale guidata da Leluca Orlando a Palermo ha varato un nuovo piano per le emergenze creando una vera e propria unità di crisi pronta a intervenire nei casi di alluvioni. Lo ha stabilito una determina controfirmata dal sindaco Leluca Orlando e dall'assessore comunale al bene comune al territorio di Palermo Agata Bazzi. Dell'unità di crisi faranno parte il comandante della polizia municipale Vincenzo Messina, il dirigente della protezione civile Salvatore Badagliacca e il dirigente del coime Francesco Teriaca. In caso di emergenza l'unità di crisi dovrà avvertire il sindaco e gli assessori di competenza dichiarare lo stato di allarme informando la prefettura e il presidente della regione e mettersi in contatto con i vigili del fuoco. Contestualmente saranno allertati il segretario generale che controlla la regolarità degli atti, il ragioniere generale per il reperimento delle risorse e il centro operativo comunale con funzioni di supporto. Quest'ultimo organismo è composto da nove gruppi che si occupano di aggiornare i dati relativi ai piani di intervento per le diverse tipologie di rischi. In attesa della predisposizione degli uffici all'ex Fiera del Mediterraneo la sede temporanea dell'unità di crisi sarà in Viale Ercole, attuale sede della protezione civile. Inserire e formare nel mondo del lavoro i giovani studenti delle scuole superiori tecniche del capoluogo siciliano a rischio dispersione che rispettando l'impegno scolastico potranno contemporaneamente imparare un mestiere e essere aiutati nel percorso didattico. Questo è l'obiettivo che si pone Confartigianato Palermo proponendo nuovamente agli enti pubblici e alle ex municipalizzate gli stagi utili all'insegnamento dei mestieri, specialmente di quelli scomparsi. Le possibilità di lavoro ci sono, dice Nunzio Reina, presidente provinciale di Confartigianato, ma molti settori sono saturi perché la maggior parte dei giovani si specializza su determinate materie. Il mondo dell'artigianato ha invece bisogno di loro e le aziende hanno il dovere di aiutarli subito dopo il diploma o alla fine delle scuole professionali. Il rilancio della città passa attraverso la memoria e questa è l'idea di base che muove Ballarò d'autunno il ciclo di manifestazioni che mira la valorizzazione del contesto urbano facendo perno intorno al complesso monumentale della Biblioteca Comune Comunale di Palermo. Ne abbiamo parlato con Giulio Pirrotta, il presidente dell'associazione Ars Nova. È un ciclo di manifestazioni culturali, di spettacolo e, come abbiamo nominato, di alta cucina che si svolgono nel complesso di Piazzetta Brunaccini vicino a Casa Professa e prevedono una serie di attività che sono appunto, alcune già svolte che sono state i capitoli della città di uno spettacolo di Salvo Piparo basato sul punto delle nostre tradizioni, dei concerti. Il primo è stato di Salvatore Bonafede che è un jazzista molto famoso in Italia e nel mondo, palermitano, e proseguiranno nei prossimi giorni con anche degli incontri legati alle due tematiche che abbiamo voluto individuare per queste manifestazioni, cioè il museo della città, un percorso verso il museo della città, quindi un confronto su questa tematica e collateralmente un percorso verso la pedonalizzazione che oggi tra l'altro è un tema sempre più all'attenzione di tutti. Chiaramente le connessioni sono evidenti nel senso che la pedonalizzazione serve a riqualificare, recuperare, insomma favorire la visita, la valorizzazione di quello che è una città d'arte come Palermo è e chiaramente questo è connesso con il museo che in qualche modo valorizza la memoria e l'identità della città. Il prossimo appuntamento appunto giovedì 24 alle 17 per parlare di pedonalizzazione. La palestra della scuola elementare Alcide De Gasperi di Capaci è chiusa da luglio per l'intervento dell'amministrazione del comune alle porte di Palermo che ha cambiato i lucchetti bloccando di fatto l'accesso alla struttura. Di quanto accaduto abbiamo parlato con Giovanni Coccheo, insegnante e titolare della stessa palestra, organizzatore da diversi anni del torneo di Judo Memorial Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con la viva partecipazione dei giovani del comprensorio. Sentiamolo in questa intervista. La scuola elementare Alcide De Gasperi di Capaci da luglio non ha più una palestra. Il perché lo dobbiamo chiedere a Giovanni Coccheo, titolare della Judo Cocchis Club, perché tutto questo? Tutto questo chiaramente perché l'amministrazione comunale di Capaci ha deciso il 23 luglio di apporre delle catene e cambiare lucchetti per impedire l'accesso alla società pur avendo, essendo in regolare convenzione, fino al 31 agosto. Questo ha fatto sì che attualmente lo stato dell'arte è questo, che praticamente la palestra è interdetta sia a noi che abbiamo le nostre attrezzature tutte chiuse dentro la struttura e sia chiaramente alla scuola, ai bambini della scuola. Consideri che noi avevamo il nostro range annuale di quasi 150 ragazzi di cui il 10% erano bambini certificati, diversamente abili. Questi bambini e questi ragazzi si troveranno tutti attualmente, sono senza un punto di riferimento sportivo a Capaci. Pur avendo, essendo in atto una convenzione, pur la scuola comunicando ripetutamente che tutta la convenzione, quant'altro ci legava con la scuola era regolarmente valida dal punto di vista legale, lei non ha fatto altro di meglio che mettere il catene e cambiare i lucchetti per impedirci l'accesso. Un gruppo di lavoro anti-evasione e anti-elusione è stato creato dall'amministrazione comunale di Altavilla Milicia per assicurare il pagamento dei tributi da parte dei cittadini. Lo scopo dell'iniziativa è coinvolgere tutti i dipendenti delle aree comunali per scoraggiare i contribuenti che non vogliono pagare attraverso la comunicazione in tempo reale e i controlli incrociati. Tendiamo, ha detto il sindaco di Altavilla Milicia, Nino Parisi, ad applicare un elementare principio di giustizia tributaria al fine di scoraggiare i furbi e abbassare la pressione fiscale per i cittadini contribuenti. Il comune di Altavilla Milicia sostiene la candidatura di Palermo Capitale della Cultura 2019 a renderlo noto e una specifica delibera approvata dalla giunta comunale altavillese. Palermo, ha sottolineato il sindaco Nino Parisi, è una città di grande spessore culturale e ha tutte le carte in regola per esprimere un'autorevole candidatura a Capitale della Cultura 2019. E ancora ad Altavilla il comune è aderito al programma Life for You per l'integrazione dei cittadini extracomunitari nell'ordinamento italiano. Si tratta di un progetto di formazione civica e linguistica della durata di 18 mesi che si rivolge a cittadini del Bangladesh, del Congo, della Nigeria e del Pakistan. Il programma, che sarà svolto dall'associazione Life and Life, ONLUS, è sostenuto dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013, dal Ministero degli Interni e dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Con questa notizia è tutto, io vi rimando alle prossime edizioni del nostro notiziario. Arrivederci. Grazie a tutti.